La prova di abbassamento o test al cono di Arnons è una delle prove principali che si esegue in cantiere per due motivazioni. La prima è che spesso questa prova è propedeutica all'esecuzione di altri test o al confezionamento dei provini. Il secondo motivo è che spesso nei cantieri di grosse dimensioni e di grande importanza la prova di abbassamento al cono è la discriminante che permette lo scarico o il rifiuto del calcestruzzo da impiegare nella struttura. La prova verifica la consistenza del calcestruzzo in base all'abbassamento rispetto all'altezza del cono che è 300 mm. Si individuano quindi cinque classi S1 per abbassamenti fino a 40 mm, S2 da 50 a 90 mm, S3 fra 100 e 150 mm, S4 fra 160 e 210 mm, S5 per gli abbassamenti superiori a 220 mm. Inizieremo con la betoniera che arrivi in cantiere ponendo il tamburo alla massima velocità di rotazione per omogenizzare il prodotto al suo interno. Quindi eseguiremo il prelievo del materiale con una carriola e procederemo quindi al rimescolamento e alla preparazione del calcestruzzo con una omogeneizzazione a mano. In questo modo avremo un prelievo estremamente coerente con il calcestruzzo all'interno della betoniera. Avremo cura di ungere tutta l'attrezzatura con un velo di olio disarmante in modo da permettere il mantenimento dell'attrezzatura in condizioni buone per l'eseguimento del test. Su questo aspetto c'è da fare una piccola precisazione. La norma non prescrive e non vieta l'utilizzo dell'olio disarmante ma si limita semplicemente a dire che l'attrezzatura deve essere in buone condizioni. Il motivo è facile immaginarlo. Una attrezzatura incrostata di rimasugli potrebbe alterare l'esito della prova. Personalmente opero applicando un piccolo velo di disarmante con un pennello successivamente lo rimuovo con un panno di cotone asciutto. In questo modo sarò certo che la percentuale di olio che resta sull'attrezzatura sarà davvero infinitesimale e quindi non capace di alterare in bene o in male l'esito della prova. Passeremo quindi all'inizio della prova. Avremo cura con la sessola di introdurre il calcestruzzo attraverso tre riempimenti successivi a un terzo, due terzi e tre terzi dell'altezza del cono. Ogni strato dovrà essere pestellato con 25 colpi di pestello. Nel pestellamento del primo strato bisognerà porre attenzione a non percuotere la base d'appoggio, questo per evitare la fuoriuscita di boiacca dal bordo del cono con la piastra di base. Nel riempimento del primo strato sarà consentito inclinare leggermente in diagonale il pestello per andare a toccare le parti del calcestruzzo aderenti al bordo interno del cono. Durante la costipazione del secondo e terzo strato la norma consente che il pestello sfori leggermente nello strato sottostante. Giunti al costipamento del terzo strato il calcestruzzo che fuoriesce dalla sommità del cono andrà rasato con un tipico movimento del pestello di va e vieni, così è definito dalla norma. Significa sistemare il pestello orizzontalmente sulla sommità del cono e farlo rotolare avanti e indietro. A questo punto libereremo la piastra di base da eventuali rimasugli di calcestruzzi caduti durante riempimento e con un movimento fluido e regolare solleveremo il cono in maniera costante. L'operazione deve durare dai 2 ai 5 secondi massimo. Procederemo quindi alla misurazione dell'abbassamento al cono ponendo il cono rovesciato a fianco della massa di calcestruzzo, ponendo il pestello appoggiato orizzontalmente sulla base d'appoggio che ora si trova in alto e misureremo lo spazio fra il punto più basso del pestello vicino alla massa del calcestruzzo e la sommità del calcestruzzo. L'intera operazione da quando inizieremo a riempire il cono con la prima sessolata di calcestruzzo fino a quando alzeremo il cono non potrà durare più di 150 secondi. Una raccomandazione che mi sento di fare è la seguente. Quando si esegua la prova di abbassamento al cono la presenza del direttore lavori o l'ispettore per l'accettazione del materiale ogni singolo colpo di pestello durante l'assestamento degli strati dovrà essere dichiarato ad alta voce quindi 1, 2, 3, 4, 5 via di seguito. In questo modo la direzione lavori o l'ispettore si renderà immediatamente conto che la prova viene eseguita nel perfetto rispetto della normativa.